Bentornati a una nuova puntata della soffitta del nerd. Oggi vi parlerò di Tiger. No, no, non so quelle tigri, quelle dello show di Netflix. So altre tigri, erano altre bestie, avevano cristalli liquidi e negli anni 90 erano l'unica alternativa ai più blasonati di Nintendo, Sega e Atari. Sto parlando di Tiger Electronics. Sigla. La Tiger Electronics fu fondata nel 1978 dalla famiglia Riesman e all'inizio era focalizzata più che altro in oggetti tecnologici molto semplici come fonografi, registratori vocali. Uno di questi, il Talkaboy, probabilmente l'avrete non dico sentito ma almeno visto perché comparve in una pellicola molto molto famosa soprattutto utilizzato da un ragazzino davvero molto simpatico si chiama Macaulay Culkin e il film era Mammo ho perso l'aereo. Un mega spottone penserete voi in realtà le cose erano un po' diverse. Sì, era un prodotto Tiger, ma si trattava di un props, un oggetto di scena costruito ad hoc per il film, che solo dopo finirà sul mercato. La cosa si è ripetuta anche con la pellicola natalizia Una promessa è una promessa. Turboman, il giocattolo che Arnold Schwarzenegger cercava disperatamente fu anche in quel caso prodotto come oggetto di scena e successivamente trasformato in un prodotto commerciale. Ma la svolta per l'azienda avviene quando cominciano a spostare il proprio core business verso i giochi elettronici. Vi ricordate comunque anche i Game & Watch stavano avendo molto successo quindi anche in America si comincia ad avere grande interesse per questo tipo di intrattenimento. Ma come fare ad attirare l'attenzione di nuovi videogiocatori? Ebbene, all'epoca la Tiger Electronics ebbe l'idea di licenziare giochi famosi. Che vuol dire licenziare? Ovvero comprare licenze di giochi già conosciuti e quindi sfruttare il loro successo per portare pubblico verso i Tiger Electronics. All'epoca quindi i Risman mettono gli occhi su un gioco che aveva avuto molto successo soprattutto negli arcade game. Si chiamava Donkey Kong. Vi ricordate ne abbiamo parlato nella puntata scorsa. Ebbene, ingenuamente i Risman decidono di andare a chiedere i diritti per questo gioco al detentore dei diritti o meglio a quello che loro pensavano fosse il detentore dei diritti la Universal. Attenzione, avviso agli spettatori. Giacomo sta per attaccarvi una peppa su una faccenda collaterale solo sottilmente legata all'argomento di puntata. Buona visione. E voi pensate, ma che ci vanno a fare la Universal? Che c'entra la Universal con Nintendo? Beh, all'epoca c'era una sorta di confusione. Perché? Perché per i Risman Donkey Kong era un adattamento di King Kong e quindi per loro i diritti andavano chiesti da Universal. Quindi che fanno? Loro vanno alla Universal e bussano alla porta e gli dicono, senti, vorremmo comprare i diritti per fare videogioco da King Kong. Agli diversa, se li guardano, fanno, ma vabbè, prendete questi diritti, ma tanto, cioè, King Kong non sono un culo nessuno da anni. Dai, i Risman, sì, 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 prego, prego, grande, eh, abbiamo fregati. Pensavano di aver fatto una cosa del genere. Sempre drammatizzazioni queste, eh. Non penso, dicevano, non se non culano. Però, vabbè. Quindi, diciamo, i Risman tornano a casa pensando di aver acquistato i diritti di Donkey Kong e cominciano a sviluppare un gioco che, diciamo, era ispirato fortemente a Donkey Kong. Che succede nel frattempo? Alla Universal, questa cosa dei diritti comprati per fare un videogioco comincia a puzzare, perché dice, ma questi che c'è devono... Ma come gli è venuto in mente le fà King Kong? E soprattutto, perché i Rignone continuavano a dire no, perché vorremmo comprare queste cose di Donkey Kong? Perché lo chiamano Donkey Kong? Si chiamano King Kong? Massa che ignoranti. Beh, non è andata proprio così, forse me lo sono inventato. Però, nella testa della Universal era scattato qualcosa. Quindi, gli avvocati cominciarono a girare a cercare sto Donkey Kong. E che è successo? Che a un certo punto scoprirono che Donkey Kong era un videogioco. Pensa come stavano questi da Universal che negli anni 80 non avevano mai visto Donkey Kong. Cioè, erano proprio vecchi, praticamente. Bene, che succede? Che la Universal, per colpa della Tiger Electronics, cioè questi si cercavano di attirare a pubblico e stavano a fare un casino, andò dalla Nintendo e gli fece causa. Perché, secondo loro, Donkey Kong era un plagio, un adattamento di King Kong. Ebbene, come andò a finire, perché questa storia ve la racconto dopo perché è troppo bella e c'ha bisogno di troppo tempo, andò a finire che Donkey Kong rimase alla Nintendo, come ormai storia ci racconta, ma addirittura la Universal perse la sua causa con la Nintendo perché i diritti in realtà erano scaduti, era diventato un public domain King Kong nel frattempo e quindi cercare di fare soldi su una cosa che ormai non era più, che era di pubblico dominio, quindi non era più di nessuno, non si poteva fare. In più, comunque, il giudice disse non è che si confondono questi due, King Kong e Donkey Kong, non mi sembra che si assomigliano tanto. Ecco, questa microstoria ci porta un po' a tornare al mondo di Tiger Electronics che nel frattempo comunque ha sviluppato un gioco e fu costretta a chiamarlo King Kong che però comunque era mezzo plagio di Donkey Kong, diciamocelo. La Tiger Electronics però non si perde d'animo e continua con questa sua politica del licenziamento, ovvero di licenziare giochi di altri e la cosa sembra funzionare molto bene perché in pochissimo tempo la Tiger Electronics comincia a produrre giochi di ogni tipo. Pensate che la Tiger Electronics aveva cose come Street Fighter, Robocop 2, Double Dragon, quello che vi ho fatto vedere prima, OutRun, insomma, Sonic. Insomma, c'era quasi tutto lo scibile dei videogiochi dell'epoca. Quindi i Tiger Electronics cominciano a vendere molto bene, soprattutto nei primi anni 90 fino alla metà degli anni 90. Sì, vabbè, Giacomo, ma come erano questi Tiger Electronics? Allora, do due risposte. La prima risposta è Giacomo che ha 10-11 anni e gioca con queste cose. Erano fantastici. Questo per esempio è Alter The Beast. Non so se ci avete mai giocato. Io ci giocavo sull'Amica. Beh, questa roba, anche solo l'idea di portarsi dietro un gioco del genere, per me era tipo un sogno. La realtà però è un'altra. Come erano questi Tiger Electronics Giacomo? Erano davvero pessimi, cioè erano frustranti, perché comunque avevano un grosso grosso limite. Il limite principale era lo schermo, nel senso, vedete, non so se si intravede, poi ve lo farò vedere in dettaglio, avevano uno schermo comunque disegnato, cioè era un disegno di sfondo che era lo sfondo fisso. Dopodiché sullo schermo comparivano dei prestampati che si illuminavano a seconda di come si andava a giocare. Questo naturalmente significava che quello che si poteva fare, cioè l'interazione che si poteva avere con questo tipo di gioco, era molto limitata. Quali erano i vantaggi però dei Tiger Electronics? Il vantaggio numero uno è che costavano molto, molto poco. Pensate che costavano una ventina di dollari all'epoca in America e comunque un Nintendo Game Boy costava molto di più e soprattutto aveva bisogno non solo del gioco, ma anche della console, quindi insieme si superavano i 100 dollari abbondantemente. In più, come vi dicevo già prima, erano giochi semplici, cioè erano dei passatempo, un po' così, anche un po' scacciapensieri per la semplicità che avevano. E questo però avvicinava un pubblico più giovane, un pubblico magari di bambini molto piccoli che invece davanti a console più complesse magari si trovavano un po' a disagio, frustrati perché erano troppo difficili. Ecco, la cosa figa comunque era che i giochi erano quasi tutti, come vi dicevo, licenziati. È un terribile inglesismo, dico licenziati, ma intendo acquistati i diritti. Ecco. Cioè, questo è la Altre Beast, Double Dragon, X-Men, la famiglia Adams, la Disney riempì i Tiger Eletronics di materiale di ogni tipo, c'era la Sirenetta, c'era Robin Hood, c'era qualsiasi cosa della Tiger Eletronics. E i giochi ebbero un grandissimo successo comunque perché si cercarono una sorta di nicchia, cioè non cercarono lo scontro frontale con il Game Boy, quanto più una battaglia laterale, cioè andavano a prendersi quello che avanzava da Game Boy, Game Gear e Atari Lynx. Siamo nel 1995, la Tiger Eletronics vendeva molto bene e decide quindi di lanciare una nuova linea di giochi elettronici. Si chiamavano Hard Zone ed erano una roba del genere, non so se riuscite a vedere di cosa si tratta, che era molto futuristica, a me piaceva anche come design, devo dire la verità. Apprende sembra un joystick, così a vederla, in realtà c'era uno schermetto che adesso vi faccio vedere, si tira fuori qua, si infilava una cartuccia qui e si giocava o detto cartuccia perché in effetti la Tiger cominciava a lanciare giochi elettronici che però avevano cartucce intercambiabili, quindi si comprava, diciamo, la console, ma questa non era una vera e propria console perché aveva veramente poco di elettronico, o meglio, a livello interno di hardware era veramente povera, si usava la cartuccia per inserirla qua e cosa faceva questo affare? Praticamente proiettava l'immagine di uno schermetto che si infilava qua dentro su questo schermo qua dietro creando una sorta di effetto 3D, questa diciamo era l'idea che avevano avuto la Tiger Electronics, l'effetto era molto, molto, molto poco riuscito, non si vedeva niente e comunque si trattava sempre di schermi LCD prestampati, quindi sempre poco voi potevate muovere, qua vedete le 200 pulsanti, ma sempre quelle quattro cose riuscivate a fare. Gli Airzone però avevano varie declinazioni, cioè c'erano vari modelli di questa linea della Tiger Electronics, Un altro modello sempre della linea Airzone era questo qui, si chiamava Super Screen, come vedete è una cosa gigantesca praticamente, rispetto, sembra un po' quei televisori, sai quelli retroproiettati, ecco, una cosa del genere. In effetti era sempre la stessa pappa, perché non è che cambiava molto rispetto a prima, qua dietro si inseriva la cartuccia, ma c'era sempre una lente che proiettava con la luce, quindi con mini proiezione di luce, l'immagine su questo schermo qua davanti. La differenza rispetto all'altro è che non bisognava mantenere un angolo di visione dritto per dritto per vedere quello che succedeva, ma in questo caso veniva proiettato e quindi era visibile anche a chi stava vicino a voi, quindi potete giocare con gli altri che vi guardavano, ma era sempre un po' una mezza cagata. La terza incarnazione, forse la più affascinante della serie Hardzone prodotta da Tiger Electronics, era Headgear, questa roba qua, queste originali dell'epoca della G, che ne avranno vendute i cinque secondo me, che cos'era? Praticamente voi avevate una sorta di occhio rosso da mettere davanti agli occhi, una sorta di banda che si metteva in testa e il gioco era sempre però lo stesso, cioè voi mettevate la cartuccetta dentro, questa proiettava con un raggio di luce su uno schermetto rosso, sull'affare rosso che c'avate davanti e voi in teoria dovete avere una sorta di visione tridimensionale. L'effetto che cercava un po' di rubacchiare dal grandissimo insuccesso del Virtual Boy, una console di cui vi parlerò un giorno della Nintendo, una cosa fallimentare, una sorta di micro realtà virtuale in cui però a un certo punto la gente vedeva un bianco e nero e io veniva da vomitare, insomma un successone a cui ispirarsi e come pensò giustamente la Tiger Electronics, ebbene questo questo headgear si lo so cosa vi state chiedendo ma perché è chiuso dentro una scatola di plastica che non si vede niente già? ecco perché perché è chiuso dal 95 capito? è chiuso dal 95 non ha mai aperto nessuno non lo posso aprire io non lo posso aprire mi spero non lo posso aprire aveva le stesse cartucce quindi aveva le stesse cartucce della serie Arzon e fu un fallimento totale praticamente dopo due anni nel 1997 la serie Arzon morì proprio scomparì completamente dai negozi e infatti questo non so manco dove sono andata a prenderlo voi penserete dopo un insuccesso del genere la Tiger finì dentro al dimenticatoio non è proprio così infatti la Tiger comunque continua ad avere grandissimi successi nel 1998 dopo aver firmato alcune esclusive di distribuzione per Hasbro e anche per Siga si fonde definitivamente con Hasbro e distribuisce un oggetto che non so se vi ricordate si chiamava il Furby che ebbe un successo stratosferico era una sorta di piccolo gremlins praticamente che parlava diceva una serie di frasi comunque finite non era un'intelligenza artificiale quindi diciamo che la Tiger continuò a trovare grandissimo successo nel mondo dell'elettronica del gioco elettronico ma non finì qui perché in realtà la Tiger tentò il salto quello rischiosissimo quello impossibile ovvero di andare a sfidare direttamente il gigante il Game Boy lo fece con il Game.com il Game.com come volete chiamarlo della Tiger Electronics una consola a cartucce veramente brutta ve ne parlo un'altra volta però perché questa è un'altra storia anche questa puntata della soffitta del nerd finisce qui io naturalmente vi ricordo di premere il pulsante subscribe e attivare le campanelle se state su YouTube fare like se state su Facebook e ricordatevi che c'è anche Instagram io sono Giacomo e noi ci vediamo la prossima volta Grazie a tutti